Abbiamo fatto una buona partita, anche non mi ha piaciuto i 20 primi minuti, troppo errore tecnico, il passaggio difensivamente non era buono l'inizio della partita, però dopo migliorando la squadra, sicuro, e quando è entrato Milaren Pjanic ha cambiato tutto il nostro gioco, sicuramente. Quando è entrato Pjanic mi ha cambiato il nostro gioco. Questi pre-season roadtrippi sono molto tiresome, qual'è la tua visione su questi gioco? Ma è una buona cosa di essere qui, sicuramente, perché il nostro Presidente è americano. Per il momento l'america tour è una buona cosa per noi, ma il prossimo settembre abbiamo un grande gioco contro la Chelsea, ma è una buona preparazione oggi per questo gioco. Sì, chiaramente per noi è bello essere qui, credo che sia un'esperienza positiva, soprattutto perché il nostro Presidente è americano, guardando nella totalità è sicuramente una bella esperienza. Abbiamo sabato una partita davvero importante anche con il Chelsea. Grazie. 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 Grazie.